Lotta all'evasione, lo SPCGL si appella ai comuni affinché incrementino il loro impegno su questo versante. Il sito del Ministero dell'Interno ha pubblicato in questi giorni l'elenco dei comuni che nel 2013 hanno partecipato, attraverso gli accordi sottoscritti con Finanza e Agenzia delle Entrate, al contrasto all'evasione fiscale e le relative somme recuperate. Otto comuni della marca hanno recuperato quasi 75 mila euro, ma se Monastier con 4.200 abitanti ha fatto rientrare nelle casse comunali 27 mila euro, a Montebelluna con oltre 30 mila residenti sono stati recuperati solo 100 euro. Chiediamo, dice il referente dello SPI Paolino Barbiero, che i comuni agiscano responsabilmente e sottoscrivano i patti anti-evasione, le somme recuperate e vengano destinate a contenere la fiscalità locale a carico delle famiglie in difficoltà economiche.